bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi un'altra sfida della settimana numero 7 ci chiede di visitare delle location abbastanza particolari lo squalo facilissimo ragazzi non ve lo devo neanche dire siamo nella casella b1 e quindi andiamo allo squalo basta solo atterrarci in modo da farlo purtroppo io vi sto parlando ma non vi sto facendo vedere la mappa e quindi ragazzi eccola qua quindi nella casella b1 lo squalo ma la cosa che ci interessa sono le rapide a riposo che sono esattamente nella casella e 5 andando nella casella e 5 ragazzi dove c'è il ponte quello altissimo sospeso vi basterà semplicemente raggiungere questa location una volta che sarete lì vi darà rapide a riposo o forra forestale ora non so quale sia perché l'altra location che invece quella dove vi sto portando in questo momento si trova nella casella g6 siamo proprio alla destra di lago languido e come vedete dobbiamo semplicemente raggiungere questo gruppo di barche un pochettino tutte buttate lì a di cane e una volta raggiunto ragazzi potremmo tranquillamente completare anche la terza location quindi una nuova sfida è stata fatta 40 mila punti esperienza vi ricordo non perdetevi tutti i video che ho caricato oggi per completare al meglio le sfide della settimana 7 io sono in live su twitch ciao